oxi plus è ossigeno attivo è un quattro in uno uno sbiancante igienizzante anticalcare di anti odore è adatto per ambienti hccp operatore del servizio alimentare prodotto italianissimo con un cucchiaino di questo eccezionale prodotto usato in lavastoviglie riusciamo a neutralizzare gli odori su bicchieri piattini tazzini posaterie e quant'altro in più pensate riesce anche a levare il rossetto dalle tazzine o dai bicchieri con un cucchiaio in lavatrice invece sbianchiamo la vostra biancheria igienizziamo e soprattutto ravviviamo i colori perché comunque come avevamo detto prima è un anticalcare di conseguenza portiamo via il calcare depositato nel tempo e allora cosa aspetti action power izzati anche tu e diventa nostro cliente